Traguardo vicinissimo per il Gela, manca un non nulla per conquistare la Serie D, solo due punti a due giornate dalla conclusione della stagione in eccellenza. I biancazzurri sono lì ad un tiro di schioppo dal salto di categoria e sarebbe l'ennesimo negli ultimi anni. Gela, che dopo la non-iscrizione al campionato di Serie C, è ripartito dai campi di periferia, annientando avversari e conquistando promozioni una dietro l'altra. Domenica si gioca a Paceco e poi si chiuderà in casa con il Cus Palermo. Il portiere giolese Daniele Pandolfo, ieri ai nostri microfoni, ha detto che gli piacerebbe già festeggiare tra due giorni. Potrebbe essere, basterà vincere o nel caso in cui si pareggiasse la San Cataldese non dovrebbe agguantare i tre punti col Camaratt. Tutto è possibile. In terra trapanese intanto cresce di giorno in giorno la pilla per la gara col Gela. La società del Dattilo Noir, attraverso il suo sito ufficiale, ha inserito un comunicato il cui titolo è emblematico. Domenica non sarà una domenica come le altre. Domenica, dice aprile, al Giuseppe Mancuso di Paceco si legge, sarà di scena la capolista Gela. Un fatto straordinario che vedrà il nostro campo invaso sicuramente da una enorme folla di tifosi biancazzurri che non ha precedenti in tutta la storia giallo-verde del Dattilo Noir. Ma non è finita qui. Per il Gela quella stessa domenica potrebbe voler dire anche la matematica promozione in Serie D. Sicuramente troverà un Dattilo Noir che farà di tutto per strappare un risultato utile per una griglia di partenza nei play-off migliore possibile. Comunque vada, sarà motivo di orgoglio per noi ospitare e confrontarsi sul proprio campo con una compagine che ha fatto la storia del calcio dilettantistico e che fino a qualche anno fa calcava i campi della Serie C. Noi ci stiamo già preparando per poter accogliere nel migliore dei modi la carovana ospite che si prevede molto numerosa sia di gruppi organizzati che di semplici tifosi. Nessun problema perché al campo sportivo sarà tutto perfetto dal parcheggio alla tribuna. La società Dattilo Noir farà in modo che sia una bella e grande domenica di festa per il calcio. Siamo certi che domenica 10 aprile sarà un evento di quelli memorabili che rimarranno scolpiti nella storia del Dattilo Noir calcio. Noi confermiamo che sarà una festa per entrambe le squadre e le rispettive tifoserie.